Siamo organizzati e questa non è una società di più, ho coinvolto, chiamarli soci, nove amici che hanno l'Aquila nel cuore, quindi abbiamo deciso di… questo era un mio sogno, l'ho trasmesso a loro, l'hanno raccolto con entusiasmo incredibile, addirittura hanno superato il mio entusiasmo, quello che vedete è stato… mi hanno aiutato al 100%, in senso sono stati protagonisti di questo progetto anche perché io sto fuori e niente, secondo me l'Aquila ha bisogno di iniziative importanti, io voglio dare un piccolo contributo all'Aquila, l'Aquila ce la farà secondo me grazie a queste iniziative, bar, pizzeria, abbigliamento, cioè dobbiamo dare ogni giorno un motivo in più agli aquilari di tornare in centro e secondo me questo è un buon motivo, piccolo ma un buon motivo. Allora il dottor Bertolaso dovrà essere qui domani mattina ma purtroppo non ci sarà, ma sarà qui, non vi dico quando, ma sarà qui una mattina di queste, quindi se verrete tutti i giorni a pranzo da qui per i prossimi 15 giorni sarà qui sicuramente. Io sorpreso perché l'ho invitato a Filadelfia, poi sono andato ad ascoltarlo l'altra sera lì all'arcobaleno, però sono arrivato tardi dopo che mi hanno raccontato appunto quello che aveva detto.